Ed eccoci qua ragazzi bentornati al gioco di Jurassic World Qui sta caricando Che facciamo oggi bastatore dai che facciamo che facciamo Ah non lo so Arex adesso andiamo a esplorare un po' Che dice qua? Tutti i cronometri del pacchetto misterioso E fammi leggere! Eh Tutti i cronometri del pacchetto misterioso sono ridotti per tutti Continua No 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 non voglio comprare niente basta zitti Ok qui c'è Claire che vuole parlarci E questo non è Claire Ma certo che è Claire Ciao Claire Ma no questo è il tizio che apre e chiude i cancelli Arex E' quello che nel film libera il tirannosaurus Rex Ah quello che ha tutti i giocattolini sulla scrivania Esatto quello Beh che dice? Non preoccuparti Claire contatterò i costruttori e farò mandare subito una squadra extra In che senso? Ma stavano parlando già prima? Cioè ci siamo persi qualcosa? Sì infatti sembra una risposta a qualcosa che ha detto Claire Che però non abbiamo letto Eh sì mi sa che ci siamo saltati qualche frase Non lo so Vabbè vai con loro voglio assicurarmi che non ci saranno ritardi Agli ordini capo Espandi il parco Che facciamo? Qua c'è scritto gratis Tutto ciò che è gratis mi piace quindi clicchiamo Espansione completata Oh che figata quindi stiamo facendo dei lavori per rendere il parco più grande È bello Sì ma così stiamo spazzando via tantissimi alberi poverini Se clicchiamo su XP che succede? Fine missione Ok raccogli Fatto A tempo di record Ora possiamo concentrarci sul motivo per cui siamo qui Prenderci cura delle creature E mangiarle anche non è vero? Dai bastatore non iniziare eh ti prego Clicchiamo Livello qua Ah sono caldo Bastatore calmati Non iniziare a sclerare a caso Ma siamo al livello 4 Arex È sicuramente molto positivo Però stai tranquillo Che adesso significa che ci tocca un'altra battaglia che dovrò combattere io Bravo bravo Vedi inizia a capire Sta diventando intelligente Andiamo a vedere cosa abbiamo sbloccato Allora Hai sbloccato nuova espansione Tocca per continuare Tocchiamo Tocca per aprire E apriamo 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 Abbiamo 10.760 monete d'oro 10 banconote 5.330 monete d'oro E 5.380 bistecchie Dai diamo da mangiare a qualche dinosauro? Sì sono d'accordo Che saranno sicuramente affamati Allora hai ottenuto punti fedeltà 15 punti fedeltà Mi correggo Tocca per raccogliere E tocchiamo Accedi a Google Play Accedi a Google Play Mentre giochi a Ghost World Il gioco ti consentirà di raccogliere obiettivi con i punti Mmm No 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 Oh guarda Vastatore Abbiamo espanduto il parco E lo renderemo sempre più grande Arex Vedrai Ora Diamo la pappa Al Al Triceratopo E cliccaci un'altra volta Clicchiamo un'altra volta Eccolo qui Vai Buon appetito Quanto mi piace Questo Triceratopo Spavastatore Troppo bello Sì infatti ha delle corna fighissime Adesso vai indietro Aspetta 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 Qui ci segna il numero 1 su evoluzioni Quindi vediamo che succede Curiosità creatura 1 Il Triceratopo Che in greco significa muso con tre corna E' caratterizzato dalla tre corna Vabbè questo qui l'avevamo già letto dai Quindi niente Andiamo indietro Andiamo a nutrire il Maggiungasauro Vai Mangia cucciolo Mamma mia Che Quanto è feroce Sì ma non si vede niente Non mi piace questa cosa Io vorrei vedere il sangue Il sangue che cola E non lo vedrai mai il sangue che cola Vabbè stai zitto E se ritentiamo Oh è proprio una fissa la tua Cioè non si vede il sangue Non si vede niente Stai zitto Bene andiamo indietro Che succede se clicchiamo sull'icona dorata Del simbolo di Jurassic World Ci vede che Diventa VIP No 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 Basta Ok ho capito che oro uguale diventa VIP Quindi non mi interessa Oh c'è l'amico di Owen che ti vuole parlare Ok parlaci Guarda i tuoi dinosauri Sono magri come stecchini Così non va Dobbiamo addestrarli e rafforzarli Capisci? E mi sembra anche giusto Va bene allora addestriamoli e rafforzischiamoli Va bene Allora che facciamo? Possiedi un Maggiungasauro a livello 11 o più Ok Quindi che fanno? Lo fanno ruggire Clicchiamo su evoluzioni Il Maggiungasauro prende il nome da ma Da ma Vabbè l'avevamo già letto E quindi facciamo livello successivo Dai cresci Cresci piccolo Cresci ti voglio grande Facciamo di nuovo livello successivo Uh uh Per far evolvere i dinosauri Fai evolvere una creatura forte Combinandone due della stessa specie Nel creation lab Le creature devono salire di livello 10 volte Prima di ciascuna evoluzione Mmm Capito capito Ok Evolvi Evolvi C'è il tasto Evolvi Guarda Arex c'è il tasto Evolvi E vabbè cliccalo no E lo clicco Certo che lo clicco Bene vai al mercato Cerca Ma si deve comprare Ma uffa E dai E che cavolo E dai Io non voglio comprare niente Ma indietro Sono arrabbiato adesso Non avrete i miei soldi Boh però inizio ad avere qualche dubbio Ragazzi non è che per andare avanti Bisognerà necessariamente pagare Non è che mi va tanto a genio questa cosa Perché se col tempo ci chiederanno sempre di pagare Pagare e pagare Cambiamo gioco Ma vabbè comunque qua c'è ancora tanto da esplorare Quindi andiamo un po' a vedere Ah c'è una missione Possiedi ma c'è un coso Ho capito Quindi Ma giunga Ah ok Ti manca un dinosauro aggiuntivo al livello 10 per evolvere Compralo al me No Non voglio comprare niente E che cavolo No dai ragazzi Non mi dite che per farlo evolvere devo per forza pagare Non è così vero Ma no dai Non penso bastatore Magari c'è qualche altra alternativa Magari dovrai completare qualche altra missione Non credo tu debba pagarlo per forza Ma spero di no Boh speriamo Ragazzi diteci cosa dobbiamo fare Perché siamo un attimo combattuti Per ora però chiudiamo e torniamo indietro Esploriamo un altro poco Clicchiamo qui su questa torre Clicchiamo su tutti i dinosauri contrassegnati dalle monete E diamo la pappa Alla nostra lanca Vai Buon appetito Quanto mi piace vederli mangiare bastatore Sì a me piacerebbe Molto di più vedere cosa mangiano Vabbè Il tricelato si vede che mangia l'erba Sì ma i carnivori cosa mangiano Vabbè Vuoi vedere troppe cose bastatore Vabbè Torniamo indietro Vediamo cos'altro c'è da fare Raccogliamo il misterioso pacchetto Tocca per aprire 5880 bistecchie 20 filamenti di DNA 2500 bistecchie E l'imnoscelide che avevamo già praticamente Non lo so Anche se adesso sto pensando a una cosa Adesso andiamo a vedere Noi clicchiamo sull'imnoscelide Hai ottenuto punti di fedeltà 15 ok Tocca per raccogliere Raccogliamo Aspettate ragazzi Voglio vedere se la mia teoria è esatta Perché secondo me adesso abbiamo Più l'imnoscelide E quindi E quindi Possiamo farli evolvere Possiamo farli evolvere Senza pagare no Ok E se clicco su diventa VIP Scommetto che C'è infatti Vorranno farci pagare Quindi Pagare 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 Voglio Voglio solo soldi Allora Andiamo sull'imnoscelide No aspetta Noi non ce l'abbiamo L'imnoscelide E quindi che Ragazzi mi sto confondendo Quindi quando ci dicono Hai ottenuto l'imnoscelide Non è che abbiamo L'imnoscelide Effettivamente Cioè non ce lo regalano Non ho capito A che ci serve l'imnoscelide Possiamo farlo combattere O Ce lo danno così Tanto per Tanto per darci La sua figurina Intanto chiudiamo qui Non ci serve Se no clicchiamo su battaglia invece Mmm Schiera i migliori Schiera i migliori Sblocca creature O ricevi DNA Vabbè sì lo sappiamo Abbiamo già letto E allora Io non cliccherei su combatti Ragazzi Io direi di iniziare Il prossimo video Direttamente con la battaglia Quindi questo Possiamo chiuderlo qui È stato un video Un po' dispersivo In realtà Perché Non sto capendo Cosa vogliono Cioè Secondo voi È davvero necessario Pagare Per andare avanti E far evolvere I dinosauri Cioè Spero di noi Dai Sarebbe un'assurdità Comunque Fatecelo sapere Sì infatti Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Ciao belli Ciao ciao